Si trovava tra grotterie gioiosa Ionica nella Locri della base operativa dei 5 presunti cybercriminali arrestati oggi dai carabinieri del comando provinciale di Messina. L'inchiesta denominata Fraudatores è stata condotta dalla procura peloritana e ha visto finire in carcere Davide Giuseppe Cesare Tricarico, Nicola Meduri, Nicodemo Porporino e Antonello Cancelli. Le accuse sono a vario titolo quelle di associazione per delinquere finalizzata alla frode informatica, accesso abusivo ai sistemi informatici e telematici e sostituzione di persona. Oltre agli arresti, gli inquirenti messinesi hanno sequestrato conti correnti e depositi bancari nella disponibilità degli indagati per un valore di oltre 1 milione e 200 mila euro. Secondo l'indagine, i 5 dalla fascia ionica della provincia regina riuscivano a sottrarre denaro da centinaia di conti correnti bancari online. L'operatività del gruppo, infatti, si estendeva su tutto il territorio nazionale. Il meccanismo era complesso. I tanti e troppi furti, però, hanno fatto scattare le indagini. Gli indagati sarebbero stati in grado di modificare sui principali siti web istituzionali gli indirizzi di posta elettronica certificata di alcuni tra i più noti istituti di credito nazionali ed esteri, sostituendoli con quelli di analoghe caselle di posta certificata, che venivano chiamate in modo simile alle originali. Dopo essere entrati in possesso delle e-mail, riuscivano attraverso un attacco informatico ad ottenere le credenziali bancarie dei correntisti, a cui sparivano i soldi dal conto. Angela Panzera per la Cineus24